Bene ragazzi, siamo qui nella prima puntata di Pokémon Ultra Sole Pronti per questa fantastica avventura Allora, vi chiedo di lasciare un sacco di pollicioni in su per supportare il gioco, il gameplay E adesso possiamo iniziare Il tuo nuovo attaccapanni Ok Ho già fatto alcune cose, credo che debba uscire da qua A parte che ho già visto alcuni gameplay con Federic Large Ok Hai fatto una bella dormita, sembravi proprio un piccolo Snorlax Ti senti riposato adesso? Hai visto che Sole? Qui ad Alola è già giorno inoltrato In questo momento accanto deve essere nottefondo, ma è normale, siamo così lontani Scommetto che non vedi l'ora di partire alla scoperta di Pokémon di Alola Ma certo Eh eh, non sto nella pelle per te La regione di Alola è davvero un paradiso incontaminato Per questo attira tanti visitatori Sono certa che anche i Pokémon che vivono qui sono adorabili Perché non vai fuori a scoprirlo con i tuoi occhi? Su, su Vai Vatti a preparare Ok Sulla attaccapanno in camera tua dovrebbe esserci il tuo cappello e la tua bossa E l'ho già visti E non dimenticare di dare un'occhiata alla guida avventura e sulla tua scrivania Che sarebbe, credo, il dati di salvataggio Ok Ecco, wow Snorlazzoni Ok Siamo perfetti adesso Dico bene Zaino E cappello Ecco, miau Bene Vedo che sei pronto per la tua avventura Certo che siamo pronti Mi raccomando, Gabriciu È il mio nome Fai attenzione all'erba alta Non vedo l'ora di conoscere il tuo primo Pokémon Divertiti a Lili Miau Ok, allora Dove si esce? Qua Bene Si può correre con B E ora dove dovrei andare? Qui Credo di sì Oh, percorso 1? Ok Muoviamoci Eh? Qualcosa si muove nell'erba alta Sarà un Pokémon Vabbè Jung Oh, sì È un Yungoose Guarda Ecco i tre starter Rowlet Litten E Poplio Li dobbiamo scegliere Almeno, credo E ha Yangu Sì E Yangu Sì Il verso lì Ola Il professor Kukui Ehi, aspetta un attimo Ehi, aspetta un attimo Ma tu sei Gabbrichu Tutto bene? Sì, grazie ai Pokémon Tutto bene Eh eh, l'hai scampata bella Comunque devo ammettere che sono rimasto di stucco Con cui i Pokémon sono accorsi in tuo aiuto Di loro iniziativa Ah, ma lascia che mi presenti Io sono il professor Kukui Benvenuta da Lola Il paradiso dei Pokémon Qui da Lola E le persone di Pokémon In armonia E si aiutano a Bicella Con un Pokémon al tuo fianco Potrei andare dove vuoi E non manovare Nell'ora da temere Se dei Pokémon Selvatici Salteranno fuori Dall'erba alta Selvatici? Eh sì Alimune A proposito Lascio che ti presenti I Pokémon Che ti hanno aiutato Ecco Questo è Rawlit Un Pokémon di tipo erba Ok Poi c'è Litter Che è tipo fuoco E poi Popplio Che è tipo acqua Esatto Ebbene Uno di questi Pokémon Diventerà il tuo fedele Compagno di avventure Ora che ci penso Forse per questo Che sono accorsi In tuo aiuto Forza Scegli il Pokémon Che ti accompagnerà Nella tua avventura Forza ragazzi Chi scegliamo? Allora Quale preferisci? Rawlit Litten O Popplio? Allora ragazzi Tutti dicono che Rawlit È il migliore Ma Che Popplio È il più brutto Ma A dir la verità A me Popplio Piace tanto E quindi Vorrei Metterlo Nella mia squadra Popplio è estremamente Determinato Infanticabile La sua specialità È creare palloncini Vuoi scegliere Il Pokémon Di tipo acqua Popplio? Sì E ragazzi A me piace A me piace Popplio Ad alcuni No Come ad esempio The Large Federico Federico Un vero A me piace E' scelto E' scelto popplio Ok Perfetto Allora Sì o no Popplio Popplio è stata Giunto la tua squadra Perfetto Abbiamo Il nuovo compagno Che ci farà accompagnare Nel nostro viaggio Allora Hai scelto Popplio Perfetto Sembrate Fatti l'uno Per l'altro Ora sei un allenatore A tutti gli effetti E poi cominciare A darci dentro Con le lotte Ecco Prendi una Poké Popplio Bene Capricio Adesso andiamo A Lili E' ora Di incontrare Il Kakuna Dell'isola Il Kakuna Dell'isola Il tuo popplio È un regalo Da parte Del Kakuna Andiamo A fargli vedere Chi hai scelto Come tuo compagno Di avventure Potrebbe avere Anche qualcos'altro In servo Per te A proposito Di Kakuna Non so Se lo sai Ma sono degli allenatori Formidabili Ok Se prosegui Per di qui Arriverai a Lili Puoi tenere Popplio Nella Pokéball Che ti ho dato Ok Siamo a buon punto Ah Dobbiamo Preseguire Da soli Ok Attenzione Oh no Eh sì Yangoos Forza Popplio Vediamogli Cosa sei capace La nostra prima Allora Lottiamo Allora Botta Pistolacqua O Ruggito Mmm Io direi Di usare Pistolacqua Vediamo Vediamo come Se la cava Popplio Ok No Caspita Allora Ma ce l'abbiamo Le Pokéball Allora Controlliamo La borsa Se la dovremo avere No Non credo Che ce l'abbiamo Le Pokéball Allora Questa sarà La nostra Prima lotta Poi vedremo Poi vedremo La nostra Prima cattura Intanto Popplio Finiscilo Usiamo Di nuovo Pistolacqua L'abbiamo Sconfitto Perfetto Popplio E' andato Molto bene Però volevo Scatturare I Pokémon Non so Se ci sono Ok Io a questo punto Non saprei Dove andare E' un cartello Consigli utili I Pokémon Diventano più No 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 Grazie No Io dovrei sapere Il posto In cui dovrei andare Eh Siamo Eh sì Credo che siamo arrivati Ecco Au Ehi ciao Sai già che Pokémon Scegliere Ah giusto Io sono Au Non stavo più Nella pelle Ti sono venuto incontro Dai Scegliamo i nostri Pokémon Popplio Wow il tuo Popplio E' troppo bello Eh un momento Hai già scelto il tuo Pokémon Scusa Magabria Ho già avuto un piccolo Diciamo Incidente di percorso E ho Ho dovuto fargli Scegliere subito il suo Pokémon Ah Solo Solo Scusa Scusa Lei si prenderà cura di Rowlet Vero Certo Ah Allora siamo tutti felici e contenti Bene Tutti Pokémon Nella Pokémon Io e il mio Litten abbiamo un favore da chiederti Ci fate di avversari nella nostra prima lotta Volentieri Volentieri La nostra prima lotta Forza Possiamo cominciare Fantastico Sono sicuro che ci sarà da divertirsi Ma è ovvio Questa è la nostra prima lotta Tra allenatori Ok Ti sconfiggerò A parte che Litten Ha uno svantaggio Perché Pokémon è di tipo acqua E lui è di tipo fuoco Quindi forse sarebbe meglio Usare sempre Andiamo con pista l'acqua Vediamo Dovrebbe No Eh non è efficace Ora guarda tu Questa invece è molto efficace Allora Direi di andare Volevo vedere come se la cavava con botta Quindi Vediamo cosa fa Graffio Oh caspita Vai Eh no Vabbè oramai possiamo salire di nuovo botta Perché Ora lo sterminiamo No però proprio sto morendo Perfetto E abbiamo vinto Ci giudichiamo la vittoria Ok A parte abbiamo vinto i soldi Ci siamo divertiti un mondo Con la nostra prima lotta Wow Gabriccio Tu e Pocchio siete stati formidabili Ma è certo Nelle lotte l'importante è divertirsi Ovvio dai E questo vale sia per l'allenatore che per il suo Pokémon È giusto Anche nei giochi è importante divertirsi E non vorrei fare l'insegnante Niente male Gabriccio Sia tu che Auri siete riusciti a tirare fuori il meglio dai vostri Pokémon E a usare delle mosse straordinarie Liri è qui a due passi Forza Gabriccio Allora Andiamo allì Certo che ci andiamo Anzi No 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 Fermo lì Continueremo il nostro viaggio nella prossima parte Quindi ragazzi ricordatevi Di lasciare un sacco di pollicioni in su E noi ci vediamo nella prossima parte di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna E Ultra Sole Ne ho comprato solo uno Ricordate l'appuntamento per Ultra Sole domenica alle 7 di sera Noi ci vediamo Eh sì Ci vediamo nel 2018 ragazzi Vi auguro buone feste Buon trappodanno E ci vediamo nel 2018 E ricordatevi una cosa Eventi iscritti Ci sarà uno speciale davvero formidabile Adesso vi lascio Ci vediamo